a lei piace la carne e a chi non piace lei che c'ha quei cappè la madonna quanti cazzo di incontri ci sono la sua storia a 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 chi è che mi paghi i biglietti con tutti sti cazzo di viaggio è una cosa incredibile sono super migliorio grande combo pugno pochiti galart e non sbaglierete mai jiu jitsu matsudo i matsudo di botte yeah no schifo guarda che mi stavi spaccando la maglietta brutto porcacione ti vitrigo tutto nuovo zelandese ah questo era tutto che volevo hey devo chiedere cosa veniva da te quando la combina si è fredda si suono come come stavi con energia ti chiedi il satsui no haro un nome molto stile mi piace definitivamente mi piace mi piace tutto mi piace questo mi piace 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 ci sono tantissime persone nel mondo no 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 non 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 ho le tinte di capelli come quella di blanca perchè ci sarebbero stati dei grossi problemi vitrigger che diventa l'aria diventa elettrica sono la combattrice combattitrice come cazzo chiamo più elettrizzante del mondo combattente prendi il mio muscolo in mezzo le gambe il mio muscolo in mezzo le gambe oh questo suona davvero incontro grazie beh andrò ora ciao sicur do svidania Mara dove on earth andavi ci sono stati ci sono stati soltanto sto cazzo ci sono stati 5 capitoli dove essere quello più lungo ma è stato quello più veloce e più sexy laura ti proprio gnammete e ci vediamo domani con il fagiano